Qual è la cosa che vi piace di più nello scattare fotografie? E non parliamo di lavoro, parliamo di fotografie che scattiamo per noi stessi. A me la cosa che piace di più quando scatto una fotografia è mostrarla a qualcuno e sentire che cosa ne pensa, ovviamente persone che conosco e di cui mi interessa l'opinione, motivo per cui su Instagram per esempio posto molto poco. Ma nel corso del video di oggi andremo a vedere le fotografie di uno di voi che mi sono state inviate proprio per farne una critica costruttiva in questo format che porto sul canale ormai da qualche tempo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, io fotografo per lavoro oltre che per diletto, per cui ho un po' introiettato quelli che sono i criteri e i canoni della fotografia professionale al servizio dell'impresa. Per cui in queste mie critiche io cerco di tirare fuori il mio lato artistico ma in realtà non lo faccio quasi mai, in realtà io vi faccio una critica sul portfolio, su come lo presentate, sulla coerenza tra le varie immagini e sulla tecnica che è stata utilizzata per catturarle e vado a fare questa critica pensando a come verrebbero accolte queste immagini se fossero state scattate per lavoro. Quindi la mia critica lascia un po' il tempo che trovo, è più che altro un gioco fra me e voi, non dovete prenderlo come la verità assoluta perché non lo è. Io vi vado a fare una critica improntata su un mio cliente accetterebbe le vostre foto oppure richiederebbe delle correzioni. La mia critica si snoda esattamente in questo modo. Per partecipare vi ricordo come si fa, dovete scrivermi un messaggio in privato su Instagram mettendomi un link di Amazon Photos o di Google Photos, un link permanente, un link che non scade, perché se mi mandate un WeTransfer io lo guardo magari un mese dopo perché siete tanti e quindi me lo perdo. Se mi mandate un link permanente, invece io li recupero tutti, quando mi occupo del vostro video ve lo segnalo rispondendovi al messaggio su Instagram, quindi non vi risponderò. Nel momento in cui vi rispondo sarà per dirvi ok, sto facendo le tue e quindi vedrete il video uscire di lì a poco. Si partecipa solo così purtroppo, non mandatemi mail, non scrivetemi da altre parti se non su YouTube e su Instagram perché non le vedo. Sulle mail sono cose solo di lavoro, solo per le aziende, quindi non mandatemele lì perché poi le perdo. Ah, ve l'ho già detto di iscrivervi al canale? Eh sì, perché quelli che si iscrivono, se mi ricordo il nome, se il nome è lo stesso su YouTube e su Instagram, quelli che si iscrivono avranno la precedenza quando mi inviano le foto ovviamente. Molto bene, ma andiamo a incominciare. Abbiamo questo portfolio in cui vedo che c'è una predominanza di bianco e nero. Andiamo ad aprire la prima e io qui dai metadati vedo che è una EOS R6 Mark II con... No, non riesco a vedere, non ci sono le informazioni sull'ottica. Possibile? 35 mm. Che sia il 35 mm quello che sto usando anch'io? L'F1.8? Credo di sì. Certo che su una macchina come quella potrebbe anche essere il 35 serie L, che è un'ottica... Mamma mia, ragazzi! L'ho provata quando sono andato in sede da Canon, mi stavano facendo vedere la R5 Mark II e vi giuro che gli ho proprio detto devo stare attento a concentrarmi sulla macchina perché mi sto facendo distrarre dall'ottica. Mamma mia, che bello che è il 35 serie L. Comunque, torniamo alla nostra fotografia. La gestione degli spazi mi piace. È una piazza. Quella riga in basso che è un po' storta non mi disturba perché le verticali sono abbastanza dritte. C'è una persona che si vede in lontananza abbastanza solitaria che però ci sta. Secondo me la composizione è buona. Ci sono un paio di cose su cui secondo me si poteva lavorare meglio e queste due cose sono l'esposizione del palazzo in alto a destra che mi sembra molto bruciato che è anche normale perché c'è tanto sole quindi sicuramente è stato fatto un recupero però lì c'è una netta perdita di dettaglio. Probabilmente facendo un HDR magari con più step lì si riusciva a recuperare e questo è il mio unico appunto sostanzialmente perché per il resto l'immagine mi sembra assolutamente buona. Fatemi vedere una cosa. Io zoomo su queste foglie e vedete vedete che la foglia grande quella chiara in primo piano ha come un bordo scuro e questo secondo me è il tipico artefatto che si genera quando noi facciamo una fotografia HDR. Mi domando se questa sia una fotografia HDR perché abbiamo quello che mi sembra essere un artefatto da somma di HDR e quindi le mie riflessioni sono primo se è stato fatto un HDR io avrei fatto più step di HDR in modo da recuperare il palazzo. in secondo luogo se è un HDR come io penso si poteva fare un po' di deghosting in quest'area per evitare quest'artefatto. In ultima istanza una cosa su cui adesso mi casca l'occhio è che la fotografia mi piace abbastanza è tutto molto a fuoco stiamo scattando con un 35 su full frame quindi è quasi un grand'angolo quindi è anche normale che ci sia un'ampia profondità di campo una cosa che non mi fa impazzire è che le foglie in alto a sinistra siano sfocate mi domando se sia perché c'era vento ed erano mosse oppure perché la profondità di campo era insufficiente a tenerle a fuoco secondo me se fossero state a fuoco sarebbe stato più bello perché a quel punto era tutto a fuoco comprese le foglie per il resto è una foto che secondo me funziona bella la scena bello il murale sull'edicola non c'è granché da dire quest'immagine funziona abbastanza andiamo avanti qui abbiamo uno scatto verticale direi stessa strumentazione qui siamo chiaramente sulla neve con una pietra che potrebbe essere una lapide e un albero e delle impronte sulla neve quasi certamente c'è stato un recupero nel cielo e nella neve perché è una fotografia con un contrasto molto ampio ci sta il bianco e nero in questo caso perché quando giochiamo sui contrasti quando il contrasto è così forte ci sta a metterla in bianco e nero oltretutto il cielo era nuvoloso quindi magari non dava neanche chissà che in termini di colore secondo me ci sta a puntare sul contrasto in un'immagine di questo tipo gli allineamenti verticali e orizzontali qui non hanno senso perché è una scena di natura quindi è tutto storto e ci sta che non ci siano linee dritte cioè non ce n'è non ci sono linee da mettere dritte qui è tutto storto di suo quindi va benissimo così una cosa che a me non fa impazzire per quanto riguarda la composizione quello che vedo io io con i miei occhi quindi la mia visione io qui vedo impronte lapide albero tutti sulla stessa riga dall'altra parte non c'è niente perché se io mi rendo conto dell'intento magari dell'autore quando ha scattato che ha detto c'è l'erba dall'altra parte uso l'erba come elemento compositivo secondo me è niente quell'erba come elemento compositivo perché non è niente non conta niente qui le cose che contano secondo me sono le impronte la lapide la pietra non so se è una e l'albero io mi sarei spostato io avrei messo le impronte e la lapide da una parte e l'albero dall'altra parte così era più piena perché tenere l'erba da una parte secondo me quell'erba non mi sta dando niente mentre mettere le impronte da una parte tenere l'albero dall'altra secondo me era più forte qui abbiamo un bello scatto di paesaggio collinare mi domando dove sia che cosa sarà la Toscana potrebbe essere la Toscana bellissimi posti comunque con un cielo con un bel effetto di illuminazione radiale vedete questi raggi che probabilmente con l'umidità al pulviscolo atmosferico sono molto evidenti e vanno giù direttamente sopra le aree più scure l'immagine funziona voi sapete benissimo chi mi conosce lo sa benissimo a me non piace quella macchia di dettaglio bruciato proprio nel mezzo dove ci dovrebbe essere il sole secondo me quel dettaglio con un HDR si poteva recuperare o quantomeno mitigare mi rendo conto che è una piccolezza lo scatto funziona è composto bene va benissimo il bianco e nero va bene mi rendo anche conto che ci deve essere stato un recupero delle luci perché vediamo che l'area di Bagliore è molto circoscritta quindi ci deve essere stato un recupero che ha portato fuori dei dettagli tutto intorno però lì in mezzo il dettaglio è bruciatissimo chiaramente perché c'è il sole dietro quindi è normale che sia così e quindi lì non si poteva fare altrimenti se si fosse potuto mettersi su tre piede a costo di fare 20 scatti di bracketing io avrei provato a recuperarlo sarebbe stato un bel esercizio di stile per il resto immagine funziona andiamo oltre e io qui mi rendo conto che se fossi una persona adotta e acculturata come talvolta fingo di essere potrei anche riconoscere questo posto ma in realtà non ho idea di dove sia però sicuramente siamo dentro in una chiesa suppongo con la lapide di qualcuno 1862 la foto secondo me è bella è un bianco e nero un po' strong con un trattamento che secondo me ha portato fuori molta chiarezza molta clarity e vedo anche che c'è stato un recupero perché se guardate la finestra tonda lì è grigio non è bianco dietro quindi secondo me c'è stato un recupero delle alte luci abbastanza importante qui la fotografia funziona il rischio che si corre con questo tipo di trattamento è che risulti molto forte questo micro contrasto è molto sparato quindi ci sta però secondo me è una cosa di cui non abusare ovviamente io qui avrei cercato di tenerla più dritta perché mi rendo conto che è una costruzione vecchia però io vedo le linee un po' imbarcate se ci fossero le linee dritte e mi rendo conto che magari non è stato fatto per non tagliare le finestre però con le linee dritte secondo me sarebbe stata più granitica al più io l'avrei raddrizzata in post e si può ancora fare passiamo avanti prossimo scatto e qui abbiamo una fotografia a colori questa mi sembra dritta perché a me sembra che quel lampione lì sia storto il lampione tutto sulla sinistra mi sembra storto rispetto a quell'altro che invece è bello dritto secondo me sta foto tutto sommato è dritta c'è un problema qui secondo me ovvero mi piace che non ci sia nessuno belli i colori del cielo bello il panneggio non mi disturba la perdita di dettaglio sui lampioni sapete che io sono fanatico su queste cose quindi un hdr potevo anche spararglielo per avere i lampioni più definiti ma non importa perché quello va benissimo così la cosa su cui secondo me si potrebbe lavorare e si può ancora io la taglierei io qui farei una panoramica tenendo solo la parte superiore perché tutto quel pavimento è bello è caratteristico dovrei anche ricordarmi dov'è perché io lo conosco quel pavimento ma non mi ricordo dov'è non me lo ricordo più so che l'ho già visto ma non me lo ricordo è bello però è proprio tanto abbiamo metà immagine tutta di pavimento tutto scuro io la taglierei al terzo inferiore il terzo in basso lo cancellerei quindi mi terrei una striscina di pavimento ma di meno dando così più enfasi alla parte superiore alla parte di cielo secondo me si presta di più e viene fuori meglio prossimo scatto e qui abbiamo delle soddisfazioni perché qui attenzione stiamo scattando a 85 mm f6.3 iso 640 e questo è un bello scatto tutto sommato di un paesaggio credo di campagna perché ci sono delle luci ma troppo poche perché sia la città abbiamo la luna che è piccolina ma chiaramente visibile quindi si vede bene ed è esposta molto bene e anche il colore mi sembra corretto abbiamo le nuvole sotto che nonostante sia esposta correttamente la luna le nuvole si percepiscono ancora molto bene quindi bello scatto probabilmente la situazione era premiante oppure sono state fatte delle multi esposizioni per ottenere questo risultato però comunque risultato bello funziona abbiamo poi le luci dei paesi sotto secondo me funziona funziona molto è una foto buia chiaramente perché qui illuminarla avrebbe voluto dire portare fuori dei dettagli che non sarebbero più stati realistici illuminare la notte non è realistico quindi secondo me va bene così non racconta tanto è più uno scatto evocativo però secondo me è ben fatto mi domando se non si sarebbe potuto comporre diversamente perché la luna è proprio un po' sparata al centro probabilmente sono le nuvole che hanno comportato questa composizione un po' costretta perché magari spostandosi si perdevano quelle nuvole quindi immagino che sia andata così andiamo avanti e qui abbiamo suppongo un paesaggio di montagna abbiamo questo bianco e nero con questo chiaroscuro con questo bel micione che aspetta lì sull'uscio di casa carina molto evocativa questa mi racconta delle cose e il fatto che sia in bianco e nero mi porta proprio dentro in un mondo che mi fa chiaramente capire che siamo in un'altra epoca fuori dal tempo è molto storta e credo che in questo caso non è né un problema né una cosa che andrei a correggere perché le case di una volta le cose vecchie sono storte secondo me in questo caso ci sta molto non so se avrei addirittura aggiunto del noise in post produzione in questa per renderla ancora più vecchia ancora più polverosa però secondo me questa funzione è molto evocativa mentre qui credo che siamo di nuovo dentro di noi quello lì è un giglio che era il simbolo di non mi ricordo chi Firenze siamo in Toscana vedo dei dettagli che potrebbero farmi pensare che siamo in Toscana questa per carità è giusta vedo che è anche dritta c'è un fascio di luce che penso che sia stata fatta anche per quello perché c'era quel fascio che illuminava la croce quindi immagino che ci sia anche un pensiero dietro però mi racconta poco anche perché non vedo didascalie nelle info vedo che non c'è scritto dov'è probabilmente è una foto che può essere anche ricondotta a un contesto di archivio di storicità però senza sapere di che cosa si tratta è una foto che mi racconta poco è un interno di una costruzione antica con una croce forse è la tomba di qualcuno e io sono ciecato e non riesco a leggere però non voglio giudicare in base a di chi era la tomba ma solamente in base all'immagine può avere un suo significato e sicuramente è dritta però è molto documentaristica non emoziona ecco andiamo avanti e qua invece sì che c'è un po' di emozione un po' di pathos perché qui abbiamo questo lungo corridoio con queste opere d'arte a freschi non capisco bene cosa sono ma io vedo molto chiaramente una suora una monaca che sta percorrere almeno credo c'è un velo che sembra da suora e questo potrebbe essere un convento e questa è molto più evocativa perché abbiamo queste linee di fuga che mi portano verso il mio soggetto bello che c'è il soggetto nero contro un muro più chiaro bello anche il contrasto tra il sopra e il sotto con questa prospettiva è quasi perfettamente dritta quindi per essere fatta a mano come quasi certamente fatta a mano bel lavoro io l'avrei raddrizzata quel pelino in post produzione giusto per però per il resto questa è molto evocativa funziona qui abbiamo un raro scatto a colori da questo portfolio siamo sempre con la R6 Mark II stiamo scattando a ISO 500 f8 e 30 secondi e qui abbiamo un bellissimo mare mosso questo è un effetto che a me piace molto e questa forse perché non sono sicuro sulle altre ma questa forse è la fotografia più tecnica che abbiamo visto finora perché c'è una chiara conoscenza dei meccanismi che regolano i tempi di scatto quasi certamente è stato usato un filtro perché sì allora f8 ISO 500 sì secondo me è stato usato un filtro ND per realizzare questo scatto quindi qui ci sono delle conoscenze diciamo che per quanto riguarda la composizione secondo me funziona bene tutto non so se quel cartello di divieto che c'è tutto sulla sinistra è stato preso apposta o per errore a me quello non piace io avrei tiltato di mezzo grado per tagliare fuori quel cartello o l'avrei rimosso in post produzione perché non mi piace per il resto scatto sicuramente funziona andiamo avanti e qui nuovamente abbiamo un bianco e nero vedete come come lavora vedete che sì è bianco e nero e probabilmente c'è la clarity un po' spinta e sicuramente c'è un recupero delle alte luci però vedete come la lavorazione va a mantenere una leggibilità buona su tutta l'immagine è una cosa che abbiamo visto anche nelle precedenti dove c'è il sole è impossibile ma qui c'è una leggibilità buona su tutto il fotogramma non abbiamo delle aree molto bruciate abbiamo un pochino di perdita di dettaglio nelle altissime luci e un po' di perdita di dettaglio nelle ombre più scavate però c'è un'ottima leggibilità su tutto il fotogramma e questa prospettiva funziona perché quella mano in primo piano mi incuriosisce mi porta dentro e fa girare il mio occhio nell'immagine quindi secondo me questa funziona molto suppongo che sia un cimitero molto carina evocativa funziona secondo me arriviamo a questo scatto che non vi so dire dove si trova neanche questo siamo a ISO 100 f9 stiamo scattando con l'85 mm e questa secondo me ragazzi è molto ben fatta perché abbiamo un bel contrasto marcato tra le aree illuminate dal sole e le aree in ombra c'è una persona che cammina in basso che mi incuriosisce mi porta dentro mi rendo conto della difficoltà nel realizzare questa foto già è buono che sia dritta quindi già sono contento che è dritta mi rendo conto che abbiamo segato il pennone sulla cima del campanile e questo è un peccato e mi rendo conto che abbiamo anche segato le punte dei piedi della persona in basso che sta camminando è un peccato ma se siamo effettivamente con un 85 mm presumo che sia un fisso non potevamo muoverci quella scena era adesso o mai più e quindi l'abbiamo scattata e è bella così funziona così in un mondo ideale sarebbe stato bello avere incluso il pennone del campanile e i piedi della persona così sarebbe stata perfetta invece in questo caso manca qualcosa è un peccato perché manca qualcosa sono cose che non è una colpa abbiamo scattato in quel momento è andata così la foto è pure bella però peccato perché a includere quei due dettagli in più sarebbe stata perfetta e ragazzi questa era l'ultima foto del portfolio di oggi sto cercando di andare un po' rapido perché questi video vengono sempre troppo lunghi quindi fatemi sapere tutti quanti nei commenti che cosa ne pensate commentate qual era la vostra preferita ditemi se il portfolio vi è piaciuto oppure no se avete ulteriori commenti una cosa ulteriore che mi viene da dire su questo portfolio è che ho visto dei tagli molto diversi tra loro quindi c'erano delle verticali e delle orizzontali e quello ci sta ma vedo proprio dei tagli diversi lo vediamo qui se guardiamo le totali vedete per esempio che la foto con la croce e la foto con la monaca sono due verticali ma sono di due formati molto diversi forse una è due terzi e l'altra invece è tre quarti può essere una cosa del genere quindi forse sono state scattate con no perché sono state scattate sempre con la Canon EOS R6 quindi sono state rifilate così per un motivo e probabilmente c'era un motivo sulla singola foto per cui sono state scattate e rifilate così però questo l'ho già detto tante volte personalmente alla presentazione di un portfolio unitario io preferirei vedere sempre lo stesso formato io eh con questo non voglio dire che voi dovete presentarmele così diciamo che io quando presento un lavoro le presento tutte con lo stesso taglio e lo so che sono il primo che vi ho detto prima che ce n'era una che avrei rifilato a panorama perché secondo me funzionava di più però generalmente laddove possibile io userei lo stesso formato per tutte detto questo mi sembra che qui siamo abbiamo a che fare con un portfolio che punta sul bianco e nero e sulla paesaggistica secondo me funziona si può puntare un po' più sull'emozionale secondo me introdurre delle persone come c'era la foto con il gatto quella mi raccontava di più perché c'era della vita secondo me se riusciamo a avvicinarci e trasformare questa questa passione questa verve col bianco e nero trasformarla un po' in stritta anche in documentalistica ma con le persone con i visi anche con questi bianchi e neri con questa chiarezza un po' un po' esasperata secondo me tiriamo fuori dei bei lavori è un'idea come sapete lascia il tempo che trova perché poi ognuno fa quello che vuole e io non sono un giudice di Masterchef ma nonostante questo vi invito lo stesso a iscrivervi al canale per beccarvi anche i prossimi episodi se volete partecipare riguardatevi all'inizio del video vi ho già detto come si fa vi ricordo che risponderò ai vostri commenti alle vostre domande con degli shorts verticali signori noi ci siamo detti proprio tutto e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video e io vi do